Parliamone. Perché parliamone? Perché noi donne abbiamo bisogno di parlare, noi donne abbiamo bisogno di mettere fuori ciò che sta dentro di noi. Abbiamo bisogno di far uscire fuori i nostri pesi. Per questo ho pensato a un momento di condivisione venerdì, venerdì 3 aprile alle ore 17, presso la nostra pagina Facebook Parola della Grazia Milano per una diretta, in cui parleremo cuore a cuore, verrà condivisa la parola e poi pregheremo per i bisogni di ognuno. Ti aspetto!